A me spaventa tantissimo quando, un conto se noi qua ci mettiamo a discutere, ma anche a litigare, va benissimo, anche usando toni forti, sulle opinioni, su idee e anche su ideologie, se vogliamo. Possiamo discutere, litigare, possiamo stabilire se i migranti è giusto o non è giusto, se questo è giusto o non è giusto, gli obblighi di quadri, tutto quello che vuoi. Possiamo discutere su tutto, le economie e la moneta, sovrana, non sovrana, sovranismo, va bene, ma di fronte però, Maddalena, scusami, ai fatti, di fronte a un fatto reale, cioè che tu hai scritto nero su bianco che indicavi di fare questo, che è l'esatto contrario di quello che andava fatto in quel periodo, perché quel farmaco, intanto quel principio attivo, il paracetamolo era totalmente sbagliato. Ma sono i sintomi. Quei sintomi, nella storia, non sono mai stati curati col paracetamolo, assolutamente no, mai, anzi, abbassare la temperatura, peggiorare la situazione, perché la temperatura era la cura in realtà, no, poi non alla fine, no, la cura è, mi si alza la temperatura e distrugge il virus, da che mondo è mondo è così, cioè tu la temperatura la abbassi solo. Lo sappiamo perfino noi. Lo sappiamo da bambini, ce lo dicevano i medici, guarda. No, noi che non siamo medici. Ma certo, ma perché lo sappiamo? Perché il medico condotto, quello di una volta che veniva a casa nostra, diceva ai nostri genitori, guarda che se la febbre non gli arriva a 39, non gliene date gli antipiretici, quelli che abbassano la temperatura. Perché? Perché la febbre sta curando la malattia di vostro figlio, del paziente. Ok, certo, se supera un certo limite, poi cominciano a entrare certe pericolosità, quindi è giusto abbassarla, ma fino a quel limite lasciala, fermo lì, ok? E invece lì subito l'antipiretico e poi l'attesa del peggioramento, ragazzi, è stato un disastro. E dirmi oggi che era un consiglio, questa cosa qui, cioè grida una vendetta, soprattutto dal punto di vista giornalistico, Maddalena, ecco perché ti ho voluto, perché tu ne hai già scritto e poi sei una giornalista con la schiena dritta. Cioè, ma quei colleghi che non hanno urlato la loro indignazione, non stanno facendo un buon servizio al popolo italiano? No, ti dico anche un'altra cosa, ancora peggio. Io, cioè sempre nel, cioè per quel principio di far restare le cose agli atti, ho semplicemente scritto che la Federazione Italiana Medicina Generale e aveva percepito dei finanziamenti dalla Angelini, che è l'azienda farmaceutica che fa la tachipirina. E mi sono trovata, devo dire, una coraggiosa Alice Guerrieri, proprio gli ha fatto la domanda, gli ha detto, scusi ma la domanda è proprio d'obbligo. Alice Guerrieri, ricordiamo, deputato, deputato presente alla Commissione Covid, deputato di Fadele d'Italia, credo. Prego. Sì, gli ha detto, scusi la domanda è d'obbligo, ma come mai voi avete accettato questi finanziamenti? Adesso la risposta è stata imbarazzante, anche questa. Perché dovete sapere che la FIMG ha una società scientifica che ha come socio unico la Federazione. Ed è la società scientifica che ha percepito i soldi, non direttamente la Federazione, ma insomma... Ma che cambia? È ovvio che avendo la società scientifica METIS come socio unico la FIMG, è ovvio che è un finanziamento, diciamo... Certo. Allora, ecco, la risposta del segretario, non so se presidente o segretario, non mi ricordo, è stata... No, noi direttamente non abbiamo mai preso soldi. Allora qui ti cadono le braccia perché dici... Cioè non c'è speranza finché non si mette qualcuno a scrivere sui giornali quello che è successo. Noi l'abbiamo pubblicato sulla Verità, io ho fatto proprio delle paginate con tutta la lista dei finanziamenti. Vi assicuro che non sono... Sono veramente centinaia di milioni di euro ogni anno passati da tutte le case farmaceutiche. Il che non è che io voglio fare una condanna a priori, anche perché purtroppo nel nostro paese la ricerca scientifica non è sostenuta dallo Stato. Quindi se non la fanno le aziende farmaceutiche, non la fa nessuno. Però ci vuole un metodo, ci vuole, come posso dire, ci vuole anche un rispetto di quello che poi viene detto all'esterno. Cioè tu non mi puoi consigliare un farmaco senza dirmi che hai un conflitto di interessi. Infatti c'era Alberto Contri che lo chiedeva sempre in trasmissione e diventavano tutti matti. Perché lui la prima domanda che faceva ai medici che erano in trasmissione con lui è scusi lei ha un conflitto di interessi e dove vive... Cioè te lo ricordi insomma i fatti che facevano, erano impazziti tutti. E ha ragione, ha ragione, perché deve essere tutto trasparente. Cioè io ti consiglio questa medicina, ma devi dirmi che sei finanziato. Certo, esatto. Devi dirmi che hai un conflitto di interessi. Come faceva... E certo, come chiedeva Alberto Contri in qualsiasi trasmissione andasse. Guarda, ne continuiamo a parlare ancora oggi. Sì, sì, con Alberto che il mercoledì ormai qui è un po' a un posto fisso qui. Lo so. Noi continuiamo a parlare di questa storia. Come così nasce anche la nostra, almeno qui in questa trasmissione personale posizione. Nasce dal fatto che il 9 marzo del 2020, quando Conte chiuse tutto, e io mi sono messo lì a cercare opinioni, pareri da un sacco di medici, e dopo averne chiamati una decina, fra i quali anche qualcuna di quelle Virostar che abbiamo visto in televisione, ma io ho chiamato anche Montagnier, professor Tarro, Vanni Fraiese ed altri, io la prima cosa che ho fatto è che sono andato a guardare su babmed.org quali fossero i conflitti di interesse di questi signori. E ovviamente, guardando i conflitti di interesse, da una parte zero, dall'altra pagine piene, guarda caso, quelli che erano zero avevano un'idea, gli altri ne avevano un'altra opposta, beh, io mi sono fatto la mia idea. Bastava poco, c'è un'operazione di pochi minuti che qualsiasi divulgatore, giornalista, no? Ma anche persona comune che vuole capire qualcosa di vero poteva fare, e che probabilmente invece non ha fatto, no? Ecco. E quindi la richiesta, secondo me, incessante è quella di smetterla di prendere per i fondelli i cittadini, scusate la vulgarità, ma è il caso di dirlo, è per non dire altro, cioè di smetterla, perché tanto abbiamo visto cosa è successo negli Stati Uniti e perché, secondo voi è successo, perché secondo te è successo? Hanno votato, hanno votato Trump sapendo che avrebbe portato Kennedy per questo, e Kennedy gli ha portato molti voti, perché la gente si è stufata di essere presa per i candelli. Certo, si è stancata, è vero, è vero, madonna.